Mai abbiamo pensato di dare un voto della Lega a un governo che nasce dal palazzo e non da elezioni, men che meno un governo di sinistra. Se oggi ci avessero stupito con effetti speciali, dicendo avete ragione, tutte le analisi dicono che l'euro è una stronzata e va ridiscusso. Avete ragione, invece di riaccentrare, dobbiamo ridare ai comuni e alle regioni soldi e competenze. Avete ragione, sull'immigrazione abbiamo chiacchierato a vuoto per un anno, forse bisogna fare in maniera diversa, saremmo usciti col sorriso sulle labbra. Visto che su questi temi abbiamo sentito l'esatto contrario, mai ci abbiamo pensato prima, men che meno ci pensiamo adesso. A differenza di altre opposizioni però, e ogni riferimento al Movimento 5 Stelle è puramente voluto, noi abbiamo voluto portare le nostre proposte. Non siamo pagati per dire no a priori, vorremmo tanto dire dei sì, perché siamo pagati per risolvere i problemi, se però sui temi principali, Europa, federalismo, immigrazione, la nave va in senso contrario, allora per noi è chiaro che rimane la via della battaglia, paese per paese. I temi di confronto e che saranno di scontro sono ahimè numerosi, partendo dall'Europa e dall'euro, ho regalato una coppia del libro Il tramonto dell'euro del professor Bagnai. Non abbiamo percentuali sulle vendite del libro, ci tengo a farlo presente, però dal punto di vista nostro e della Lega non c'è rilancio dell'economia del lavoro, oggi c'erano in piazza migliaia di partite IVA, di artigiani e di commercianti. Il problema è l'euro, il problema sono i vincoli folli dell'Unione Europea. Matteo Renzi ci ha detto che la sua posizione è totalmente diversa dalla nostra, questo ci rammarica. Se il prossimo governo Renzi arriverà in aula per riportare a Roma competenze e soldi, non ci siamo e la Lega è dall'altra parte della barricata con tutti i suoi amministratori locali. Io ricordo che oggi la Lega governa più di 500 comuni e le due regioni che da sole pagano un risidio fiscale di 70 miliardi di euro, quindi da sole mantengono l'Italia e mezza Europa. Quindi se il tentativo sarà di riaccentrare non ci siamo e su questo la guerra sarà totale. Sullo Ius Soli, mi stavo chiedendo su che cosa ci siamo trovati d'accordo sostanzialmente su nulla, perché sullo Ius Soli c'è stato confermato che si va verso uno Ius Soli temperato e per quanto ci riguarda confermiamo il fatto che l'integrazione non si regala e la cittadinanza non si svende ma arrivano alla fine di un percorso, quindi sui temi dell'integrazione e dell'immigrazione ci auguriamo non ci sia la propaganda che c'è stata nell'ultimo anno ma si voglia entrare nel merito dei problemi. Se i presupposti sono quelli che abbiamo sentito oggi, anche in questo caso la Lega, sia la Camera che il Senato, ne farà e ne dirà delle belle. Per quanto riguarda poi anche esigenze locali, se entro una settimana ci sarà nero su bianco l'esenzione fiscale per tutte le zone colpite da alluvioni, freni o terremoti, su questo potremo ragionare, altrimenti faremo il diavolo a quattro, perché c'è gente che ha avuto un metro e mezzo di fango in casa o in azienda e che deve pagare tutte le tasse fino all'ultimo centesimo. E quindi se devo trarre da segretario di partito la somma di queste tre quarti d'ora di confronto interessante e utile, devo dire che ne esco preoccupato. Ne esco preoccupato perché la nostra analisi è che l'Italia e soprattutto il Nord sia occupata, manu militari, da potenze straniere e chi non ha la voglia, la forza o il coraggio di ridiscutere i vincoli europei e di mettere in discussione l'euro che è una moneta criminale, è complice dell'occupazione manu militari tramite le banche, le multinazionali e la finanza del nostro territorio. Grazie.